Bambini, indovinate chi c'è? Sì, sono io, Bob! Venite con me, impariamo con Bob! Bambini, sono Bob il treno, DJ e presentatore. Benvenuti al nostro show delle lettere! I partecipanti a questo show sono le lettere dell'alfabeto inglese. Carino, no? Canteranno, balleranno e ci insegneranno suoni che iniziano con le loro lettere. Ora facciamo un grande ciao e diamo il benvenuto ai nostri magnifici giudici! Siete pronti, giudici? Sì, Bob! Diamo il benvenuto all'affascinante Miss Q! Io sono la Q e sono qui per te, poche parole cominciano con me. Q, 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 questo è il mio nome. Q, 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 prova a dirlo ora con me. Q, Q, Q! Ora Miss Q è la Queen, sempre gentile è la regina. Q, 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 Queen, Q, Q, Queen. Dai, formiamo insieme una Q, tutti in coda, vieni anche tu. Q, 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 Q. La mamma dice di esser quiet, è tardi ed ora dormirai. Q, 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 quiet, Q, 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 quiet. La quale è un uccello raro da vedere, ma se è nei dintorni lo puoi sentir. Q, 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 Q. Quec, 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 l'or sanno fare, le papere nel parco puoi trovare. Quec, 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 quec. La quilda al calduccio mi terrà, anche se fuor nevicherà. Q, 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 Q. Un question mark tu metterai, se ho una domanda tu farai. Quec, quec, question, quec, quec, question. Forse cos'è un quarter, lo sai già Basta dir metà della metà QQ quarter, QQ quarter Dolce e adorabile Miss Q Per ringraziarti ti dico thank you Giulia ora sei tu che darai i voti a Q Geniale! Regale! Proprio divertente! Stramba! Grazie Miss Q! Noi torniamo presto con i dolci suoni di altre lettere dell'alfabeto Per ora, adios! Bambini, riguardate il video e contate le parole che iniziano con la lettera dell'alfabeto di questo episodio E non scordate di scrivere la risposta nei commenti qui sotto Grazie!